Musica Hi people of youtube Welcome back to a new episode of Mario e Luigi Superstar Saga A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il nostro scontro con la pianta piragna cattiva qua sulla pista di atterraggio Ora possiamo tornare indietro e dire a Lady Ceccia che è tutto sistemato Ben fatto fratelli, ora possiamo accogliere la principessa Peach Vieni, vieni, vieni E' la mossa che fa Luigi, è lo stesso suono Che frenata, complimenti Giardino del castello di Fagiolandia Non potete farla parlare, sta male Silenzio La principessa Peach, rappresentante del regno dei funghi, vi porge i suoi saluti Ciao Per fortuna non devo dirlo io il nome qua Mario e Luigi, grazie per quanto avete fatto Sono felice di sapervi sani e salvi Come cacchio fai da avere la voce, porca miseria Mario, Luigi, oh 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 Che spazzo, che divertimento In realtà la voce della principessa Peach non è mai stata rubata E che cacchio No 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 Sapevo che la strega Ghignarda bramava la voce della principessa E allora ho avvertito la principessa in anticipo Qui, 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 qui Guarda un po' dove si trovava invece la vera principessa Oh, eccoli là Ecco, una cosa che non ho mai controllato Nel filmato originale Si vedranno loro due nascosti dietro le cose messe così Questa è la principessa Peach a cui la voce è stata rubata Ciao, sono la sosia Ecco perché il fagiolo stella ha reagito così alla sua voce Ciao Ciao Aiuto Ve l'avevo detto Che eravamo i più forti Mario, Luigi Mi dispiace per avervi fatto preoccupare Quando siete arrivati in fette furie al castello Volevo dirlo subito la verità Ma poi è arrivato Bowser E non ho avuto modo di informarvi Comunque Siete riusciti a sconfiggere la strega ghignarda Evviva, evviva E vai A proposito Una cosa in merito al fagiolo stella Sembra che poi sia caduto da qualche parte Spezzandosi in quattro parti Io vado a cercare i pezzi del fagiolo stella Voi due fate una gita per il regno con la principessa Peach E divertitevi Blink Bye bye Ciao Eccoci qua dalla regina Oh, Mario Proprio al momento giusto Mario Luigi Ho appena parlato con la regina fagiolona Nel regno di Fagiolandia c'è una piccola comunità di Todd Toadopoli Lo sapevate? No È la città dei Todd che sono emigrati in questo paese Dato che siete giunti fin qui a Fagiolandia Proporrei una visita ufficiale a Toadopoli Questo sì che è un bel discorso Però in pratica per andare a Toddopoli bisogna passare a nord dal vicolo sorriso Lì ci sono molti mostri per la principessa Peach potrebbe essere pericoloso Come rappresentante dei Todd sono assolutamente contrario Ed è tutto sconsigliabile attraversare una terra ignota e per di più piena di mostri Però se Mario e Luigi si occupano della sicurezza Mario e Luigi Se le cose stanno così Allora mi accompagnate a Toddopoli, vero? Certo no Sì Va bene maestro Todd Non ci sono alternative Comunque fate molta 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 attenzione Noi iniziamo subito i preparativi Mario e Luigi Voi andate avanti e aspettateci all'ingresso E va il sorriso Allora Regina Fagiolona e i miei omaggi Noi partiamo Luigi intanto là sotto La vostra principessa non è soltanto bella ma anche simpatica e gentile Tutti noi siamo profondamente ammirati Mario, Luigi vi affido la scorta della principessa Peach Per andare a Val Sorriso dirigetevi a nord est una volta usciti dal borgo Allora Ok Potremmo andare a Val Sorriso Ma Quello che faremo oggi è un po' di backtracking Nella fattispecie Oggi andremo alla ricerca di alcuni fagioli che ci mancano Prima di tutto Il primo posto da visitare è proprio questa casa Mmm Ma il blocco l'abbiamo già fatto Sì Se non fosse che ce ne sono altri tre nascosti Ecco fatto Oh ma guarda Finalmente hai degli oggetti nuovi Hai le noccioline Le super noccioline Abbiamo il 50% di sconto Allora ti direi che potrei già comprarle Però aspetterei per vedere se riusciamo a superare quel 50% di sconto Non ci conto moltissimo ma Vediamo Ecco un'altra zona in cui dobbiamo arrivare Questa qua sopra Come ci arriviamo? Da... Qui Perfetto Mmm Ma qua non c'è nulla Certo Come no E Mario è salito di livello 5 Ah Lo fanno apposta Vabbè ormai abbiamo delle statistiche buone per carità Però Porca miseria Su tutti quei 5 Un 2 Vediamo se Luigi riusciamo ad alzare gli baffi 5 4 Ovviamente 2 Quando mai Porca di quella miseria Dirigiamoci invece Alla cantina Ghigno Questo perché dovevamo Tornare in questa zona Quella dove Abbiamo superato l'alberone Per andare a prendere La bibita misteriosa Il punto è che io mi ricordavo Chiaramente Che c'era qualcosa di nascosto Ma il punto era difficile trovarlo Guarda caso Eccone qua un altro Ed infine Dove sei? Ecco qua l'ultimo E ora Siamo al totale Di 26 tiri fagioli Più facile arrivare a 15 Che a 26 Quindi Usiamoli per farci una bevanda Prendiamo la scorciatoia Torniamo al piano astrale E voi vi chiederete Che ci facciamo qui Torniamo indietro Torniamo a fare questo maledetto minigioco Una dura sfida Allo salto della frontiera 2 Purtroppo Miei cari Si Ci tocca Se non sbaglio Sono 4 livelli In totale E io faccio schifo Ecco appunto Dai Ti odio Certo che voglio riprovare Maledetti Ok Prima Luigi Poi Mario Poi fanno la finta Poi ora Vanno piano Ora invece vanno piano Poi veloce Ecco Ah Che ner Oh Ok Primo livello fatto Maledizione Con solo una vita persa a testa Ciao Superato il livello 2 Questo si che è saltare Ecco il premio Si tratta di un premio Che non si trova altrove Ed è vostro Blink Blink Bravi Ecco E ora dobbiamo farlo Per tanti altri livelli Ok Ah Troppo presto Ora Prima Mario Poi Luigi Ora Luigi Poi Mario Ecco Ah Madonna mia Ce l'avevamo Ce la siamo rischiata qui Ce la siamo rischiata brutta Bravi Bravi Ciao Avete superato il livello 3 Ecco il vostro premio Parabarabam E torniamo di nuovo dentro Volete tentare il salto Dalla frontiera Sunshine Certo Questo è particolare Per un piccolo dettaglio Stupidissimo tra l'altro Però carino da vedere Quella Quella Che incrocio E' un piccolo dettaglio E' un piccolo dettaglio No Non era come Mi ricordavo che appariva Il simbolo Sunshine Di Super Mario Sunshine Probabilmente mi ricordavo male Ho superato il livello 4 Questo si che è saltare Se non sbaglio Non ci sono altri Uh 5 Non ce ne sono altri Non ce ne sono altri Di livelli del salto E non ti danno altri premi Se non ricordo male Allora cosa scegliete Riproviamo il Sunshine Non lo filmo E lo faccio solo fino alla fine Ma non mi sembra Che ti danno il premio Ok Il Sunshine E' quello Più difficile Ma è il più facile Di tutti Da superare E non abbiamo perso Neanche una vita A sto giro No i primi Te li danno lo stesso Non me lo ricordavo Perfetto Ce ne danno Sempre 5 Yes Questo si che è farmare E siamo a 17 Sapendo dove si farma L'altro Io farmerei Ancora un pochino In questo Poi andiamo Nell'altro Siamo a 32 sorrisi Prendiamo il tubo E andiamo Al castello L'area nord Questo perché Perché dobbiamo Risalire La montagna In realtà avrei Uh guarda Visto cosa succede A risalire anche Le vecchie zone Ti Ritrovi Oggetti che avevi Lasciato indietro Eccone un altro Dicevo Potevamo anche Scendere dal piano Astrale Ma facevamo Prima così Tra l'altro In questa zona Se non ricordo male A parte Ecco Un altro Di questi Che sicuramente Non ci fanno schifo Ci dovevano essere Delle rocce Che potevamo rompere Però Noi dovevamo Arrivare dal vecchio Volete salire di nuovo Sul vagoncino Sì Cos'era Quell'animazione Comunque Stessa storia Dell'altra volta Dobbiamo Prendere Un buon numero Ah Luigi Ok Calmi Ok Calmi Che Ce la Facciamo Non vedo Ok 20 precisi Precisi L'abbiamo rischiata Qua Prossimo livello Bravi Ricetto Livello 3 Ben fatto Ecco Prendete il premio Grazie Vecchio Ma soprattutto Adesso Dobbiamo fare Il livello 4 L'ultimo Dei livelli Disponibili Anche dal vecchietto Giusto Volete andare in nuovo Sul vagoncino Qua se non ricordo male Ce ne servono 25 Tra l'altro Cos'è Oei Vai via Non vedo Luigi Ok Dai Che ci siamo Dai che ci siamo 27 Uff Che culo Prossimo livello In realtà Dovremmo essere A posto Ho raggiunto Il livello 4 Ben fatto Ecco Prendete il premio 5 4 Va bene Uguale E se non ricordo male Questo era l'ultimo Giusto? Cacchio Ce ne manca uno Non vorrei dire Ce ne manca uno Per arrivare alla somma Che ci serve Questa è un'altra Sommacoccino Si Forse non era l'ultimo Il quarto Va bene Non importa Facciamolo Se prima era 25 Ora saranno 30 Ecco Questo potrebbe essere Un filo Più difficile Ora Ah Perso La luce Attento Luigi No Ho perso Di nuovo La batteria Luigi Sta per andare Al buio No Ho perso Di nuovo Vai via Ok Luigi Dai Ah Dannazione Questo giro Abbiamo fatto Schifo Non lo voglio Negare Peccato Un ultimo Giro Al piano Strale E ce le abbiamo Tutti E con questi Possiamo Finalmente Tornare All'interno Del bar E creare Altre Miscele Sopraffine Signori Siete nel bar Del fagiolo Stella Avete delle Lamentele Sapete già Le specialità Della casa Certo Bene Mostratemi I fagioli Che avete raccolto Allora Fino ad ora Abbiamo fatto La miscela Ghigno La miscela Crepapelle E il ghignuccino Ora Ci manca Sorriso E tiritera Tiritera Se ne abbiamo 26 Facciamoli Uh Bello Marroncino Proprio come un caffè Una miscela Tiritera Pronta Hai ottenuto La miscela Tiritera Che rumore Non sarà Un fantasma No 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 Questa volta Ho deciso di entrare In modo un po' più originale Ah come? Beh Fare sempre le stesse cose È noiose Dopo un po' Vero? Inoltre le videoconferenze Non sembrano spaziali E allora capo Questa volta Gli è tassaggio Della bevanda Oh no Non preoccuparti Ho mandato Un mio rappresentante Dovrebbe essere lì Fra poco Rappresentante Ciao Sono un fantasma Non c'è da preoccuparsi È un fantasma amichevole Fagli bere La nuova bevanda Mi raccomando L'assaggio io È buona È sceso Oh grazie Sembra fantasticissima Eccolo lì Il pezzo della triforza Grazie per il campione Ecco una cosuccia Che ho creato nel tempo libero Magari veda aiuto Ecco la gran forza La prossima volta Verrò di persona Beh fantastico Ora Crevapelle Ti ritera Ghigno Sorriso Ecco fatto Questa è bella giallognola Come il tè Un bel tè al limone Una miscela sorriso pronta E le miscele base Siamo a posto Ce ne manca poi solo una Dopo di questa Oh Ho sorpreso Un'altra videoconferenza Come capo Questa volta Non devi essere presente Di persona Le promesse sono fatte Per essere disattese Non è che sta per arrivare Un altro rappresentante Oh No Non si fa così Il nuovo Game Boy Horror Consente di Teletrasportarsi Prendi il nuovo succo di fagioli E sistemalo davanti Allo schermo Ecco tieni Con la spirapoli Teletrasporta Venuto Eh Buona Un altro ghost Un altro ghost Indimenticabile Oh Un guanto Grazie per quel campione Ecco la cosa C'è che ho creato Al tempo libero Magari vi è d'aiuto Ecco il Mastico energia Questo non mi ricordo Da che gioco Però La prossima volta Sarò lì di persona Certo Ci possiamo fidare Può essere Volete continuare Certo Andiamo nel prossimo menu E facciamo un Sorriso espresso Ci manca poi solo Il tirisucco Ce ne mancano Dieci di fagioli Ci arriveremo Ci arriveremo Sorriso espresso E vai con uno E vai con due Bello Violento Un sorriso espresso Pronto Hai ottenuto il sorriso espresso Eccomi qui canne d'ossa Ne è passato di tempo dall'ultima volta Oh ehi capo La tua ombra sembra così sottile Sei dimagrito No 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 Sto provando l'ultima invenzione Un abito da fantasma Indossandolo l'abito si può diventare fantasmi sempre e ovunque Così alla fine sei diventato un fantasma tu stesso capo Ah Sì ma posso comunque assaggiare le nuove bevande Assaggiamo Ah gusto scuro adulto Tentenditori è il tipo di succo che può piacere agli abitanti dell'aldilà Grazie per quel campione ecco una cosuccia che ho creato il tempo libero Hai ottenuto la cravatta cobalto Anche se non è una cravatta ma è il fiocchetto Volete continuare Allora ti direi visto quanti fagioli abbiamo Facciamo un'altra crepa pelle Vediamo un attimo invece La ghigno Ne abbiamo 42 Riusciamo a farne Perfetto Una di queste e una di quella miscelata Aspetta questa cos'è che aumentava la difesa Vediamo Sorriso espresso È una roba casuale infatti non soltanto favorevole a questo La miscela sorriso aumenta i baffi e lo facciamo a Luigi La miscela ghigno aumenta la velocità e la diamo a Luigi La miscela tiritera faceva aumentare invece i punti fratelli E io farei aumentare quelli di Mario Ecco qua E infine la crepa pelle aumentava la vita Quindi Mario e ancora Mario Il sorriso espresso Bo Luigi Non ho visto cosa ha aumentato E visto che ce li abbiamo Un altro ghignuccino Ecco fatto Allora il ghignuccino aumentava la difesa Diamola a Mario Vediamo gli oggetti Cravatta cobalto Baffi per due Non male Mastici energia Non perdi la testa del martello Ottimo Raddoppi danni inflitti e subiti La gran forza è Tanta roba Protezione plus Tieni premuto per il salto difensivo Questo già ce l'avevamo Diamo un occhio veloce al negozio Allora Pantaloni antidoto Pantaloni che bloccano le trasformazioni Sputa veleno 60% Ci dà più difesa a Mario E a Luigi invece Toglie 6 di punti vita Ma aumenta anche lui la difesa Ok Non sono male questi Pantaloni veloci Attacco numero 1 Ok Questi non sono male in realtà Anche questi diminuiscono la vita a Luigi Però gli danno più difesa E attaccano per primo Se li do a entrambi Credo che attacchino prima dei nemici Spero Pantaloni moda Non hanno nulla di nuovo Ok Butterei Due pantaloni veloci a entrambi Mentre per le tessere abbiamo La risola Mano PV Più punti vita con azioni mano singola Niente di eccezionale Però aumenta l'attacco Più PV con il salto singolo Ok Questo è buono Fratello tessera Promozione Aumentano i punti fratelli Oh Questo è buono Questo è buono Aumenta sia i punti fratelli Che l'attacco Ok farei questa Allora Mentre a Luigi Questa Diminuisce Sempre i punti fratelli Ma gli aumenta 102 L'attacco No Per il momento Luigi Sta ancora bene Con la tessera che c'ha E con questo Ci salutiamo Quindi signori Vi ringrazio a tutti Per avermi seguito Come al solito Se mi avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti